Buongiorno a tutti, mi rivolgo soprattutto ai nuovi iscritti e alle persone che ancora mi domandano se è vera la notizia che c'è il reddito di infanzia da 400 euro al mese e l'assegno di gioventù da 250 euro al mese. Come detto in precedenza e in altri videomessaggi è una proposta del capogruppo di Fratelli d'Italia a Foti che è stata presentata alla Camera e soprattutto legata alla denatalità nel nostro paese. Se dovesse passare, perché si intende ancora una proposta di legge non c'è nessuna domanda da fare, verranno erogati 400 euro al mese per i bimbi da 0 a 6 anni e dal settimo anno in poi fino al venticinquesimo anno di età. Studi compresi verranno dati 250 euro al mese in virtù dei costi alti della vita e per sostenere le famiglie, ma come già detto in precedenza questa proposta di legge viene fuori proprio perché in Italia c'è un tasso di denatalità molto alto.